prendete questa e questa sono benedette dal santo padre 90 giorni di indulgenza 90 giorni fanno sempre comodo indulgenza mia roberto ora basta sequestriamo tira fuori i sigilli roberto ne sei che cosa sta succedendo al solito tassa arrecciate tutto qui con sua nonna non si può ragionare lasci stare la nonna quant'è questa volta 1865 lire e 25 centesimi avete il resto bene nazareno dov'è la nonna di sopra signorina ravella lei è come la providenza arriva sempre il momento giusto finchè dura nonna nonna siamo alle soli ma come te lo devo dire lo sai che ti fa male ma guarda fumi nel bagno come come un piccolo collegiale stai bene cara quando sei arrivata proprio adesso nonna no soltanto questo poi un altro subito dopo cena e va bene guarda cosa ti ho portato non è un amore sii caro è molto bello ah dimenticavo si chiama io io oh ma questo si che mi piace da qua meno male ah sei bravissimo a proposito come sta il caro filiberto ma sta bene credo lui sta sempre bene è un bravo ragazzi ma gli vuoi bene davvero oh nonna lo trovo adorabile mi ha telefonato è impaziente sta morendo dalla voglia di vederti basta filiberto mi fai venire i brividi ma è proprio quello che voglio è divertente mannaggia e chi è sei sicura che tuo marito è a monaco mi ha telefonato stamattina allora apro vengo subito arabella come stai? ciao mi avevi telefonato? si ci sono guai in vista filiberto ma sempre in pigiama stai grazie a tutti Grazie a tutti.